Per vedere andare avanti, questa sera l'abbiamo trovato, grazie a queste persone, grazie allo successo di una grande esperienza e di fare un'attività. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.